ragazzi questa è una buffonata che purtroppo durerà fino a... ma al 10 di maggio non succederà nulla perché poi al 10 di maggio prolungheranno i tempi se parlerà marzo dell'anno prossimo praticamente come andrà a finire? andrà a finire che tutto questo andrà a scadenza termine andrà tutto in prescrizione caso archiviato Napoli campione d'Italia per sicurezza aspettano sempre per sicurezza che il Napoli vince dello scudetto perché devono aspettare prima che il Napoli diventa ufficialmente e matematicamente campione d'Italia perché se no capisci che se poi tu liberi sta situazione durante il campionato ridando i 15 punti che torneranno la Juventus può diventare una cosa scomoda per i Napoli no? quindi prolungamento al 10 di maggio per la sentenza quindi oggi è stato tutto rinviato sicuramente si andrà nella sede di Milano a discutere il tutto perché è lì che dato che la Juventus è quotata in borsa non può farsi giudicare da napoletani interisti di merda e figli di puttana che lavorano a Torino quindi è giusto che verrà spostato nella sede di Milano il tutto e niente quindi fino al 10 di maggio non succederà nulla quindi anche oggi ci mandano insieme i bidomani chi oggi si aspettava che sarebbe stata la giornata che la Juve veniva condannata usciva la sentenza io vi ho sempre detto ragazzi non ci hanno un cazzo in mano non ci hanno un cazzo in mano la porteranno per le lunghe perché dichiareranno alla fine che hanno fatto una figura di merda con la Juventus direttamente oggi la FGC nemmeno si è presentata ma la cosa importante è che gli avvocati di Ronaldo e di Dybala non si sono presentati come parte civile siccome qualcuno giorni fa ha scritto che ci sarebbe stato un pagamento di 54 milioni che Dybala aveva chiesto che avanzavano i soldi alla Juventus nemmeno si sono presentati come parte civile e quindi anche questa teoria è stata smondata innesima farsa mondata sulla Juventus pur di destabilizzare l'ambiente un ambiente che ormai è sicuro di sé Juventus convintissima del fatto che sta nella ragione Juventus che quei 30 azionisti che si sono poi costituiti come parte civile è stata Juventus stessa a dire a questi avvocati cioè ragazzi se volete qui potete fare questo tipo di c'è questo cartaggio che potete compilare qui potete presentare come parte civile eventualmente noi abbiamo fatto degli spagli vi risarciremo quindi ci sono stati questi 30 azionisti che hanno voluto aderire a questa cosa qua Juventus è stata Juventus stessa a dire ai propri azionisti che si dice se volete potete fare questa cosa qua quindi si prende tempo il fallimento sai quando uno è morto e lo tengono attaccato con le bombole d'ossiglio stanno cercando di portarlo fino alla fine quando poi terminerà tutto scadenza termini tutto finirà archiviato e poi si dovranno pagare i danni si presenterà il conto che Juventus presenterà a chi fino adesso è invangato e buttato merda sulla Juventus e dovrà pagare a partire da Simone Absim che lui è uno dei tanti ragazzi togliete l'iscrizione a quello là per favore perché dopo che sei stato esaltato da Ziliani penso che tu oggi dovresti chiudere il web quindi tutti quelli iscritti a Simone Absim siete pregati di togliere l'iscrizione immediatamente perché se siete Juventini non potete avere l'iscrizione a Simone Absim ma detto questo quindi fino al 10 di maggio ci porteremo questa parzelletta nel frattempo il 19 di aprile verranno i dati 15 punti alla Juventus che ingiustamente sono stati tolti e poi per questa cosa su questa inchiesta Prisma tutte queste buffonate, stipendi, agnelli in galera poi ci sarà tempo di vedere intanto tu mi metti i 15 punti che Juventus già sai di avere che il 15 aprile saranno messi lì come giusto che sia sulla rassifica della Juventus e quindi ragazzi niente oggi non è successo niente ma si sapeva che non succedeva nulla quindi aspettiamo ragazzi fino al 10 di maggio e che questa buffonata continui ad andare avanti ripeto oggi qualcuno a me che ieri mi hanno scritto domani è il giorno che vi contanno domani c'hai da fare tutto quanto nella serie del Bucchino quindi questo è il risposto ragazzi ci aggiorniamo per i prossimi video nel frattempo vi mando un abbraccio dico agli miei amici stati che tranquilli Juventus ha in mano il tutto per smontare qualsiasi ipotesi fatta contro la Juventus e che poi alla fine quando presenterai il conto qualcuno si farà male davvero ragazzi una buona giornata è sempre fino alla fine grazie a tutti grazie a tutti